Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un nuovo video. Oggi faremo un video particolare, diverso dal solito, in quanto ho deciso di dare spazio anche a qualcuno di voi. Questo ragazzo ha deciso di contattarmi alla mail, che trovate in descrizione e lascerò sotto al video, per poter chiedermi di pubblicare il suo mezzo con la sua elaborazione. In questo caso oggi stiamo parlando di un Derby Senda con motore AM6, quindi il classico Minarelli, con cilindro Maxi Kit della Top Performance, che porta la cilindrata a circa 80cc, con tutto chiaramente il kit completo. Avendo visto quindi l'elaborazione e non avendo mai portato questo tipo di motore e moto sul mio canale, ho deciso quindi di dare spazio a questa tipologia di video. Se anche voi avete qualcosa di particolare e volete contattarmi perché venga pubblicato il vostro video, potete farlo tranquillamente alla mail che trovate sotto al video in descrizione, io visionerò il video e insomma vi darò risposta se poterlo pubblicare o meno. Detto questo, io direi che vi lascio il video e ringrazio il nostro amico nonché iscritto. Ciao a tutti, questa è la mia moto che è un Derby Senda e ora vi farò vedere le modifiche che ho portato. Allora, come cilindro abbiamo un Top Performance 80cc, poi abbiamo una marmita Oka calcolata per l'80cc, qui abbiamo una pedalina di accensione One disegnata in carbonio, rubinetto a levetta a caduta libera, tubi in treccia trasparenti per il radiatore, questo è un coprimiscelatore sempre Oka, allora poi abbiamo, io ho messo un interruttore On e Off per far accendere e spegnere la ventola, qui così almeno d'estate si raffredda meglio, qui abbiamo un termometro della Coso, e qui ho un contagiri, tutte e due digitali. Poi ho messo la leva delle marce sempre della One, in carbonio, è collettore 360 gradi della Top, con il suo pacco lamellare 8 pedali Top, qui abbiamo un VHST26 con il suo filtro a cono, come albero monta sempre un top spalle piene, poi ultima cosa ho montato una MWT, una accensione MWT e la sua centralina, poi ho messo uno specchietto veievole e un manubrio rosso in Ergal, e cassa rapido dell'addomino. Facciamo un'accensione, già la moto è calda, facciamo un'accensione, e poi facciamo un'accensione. Facciamo un'accensione. ecco qua anche l'accensione bene un saluto a faro tube e al prossimo video ciao